Da quasi mille anni si erge nella piazza centrale di Campo San Piero a protezione dei suoi cittadini. Al termine dei lavori approvati dalla Giunta Comunale sarà la Torre dell'Orologio di Porta Padova, la sede naturale per accogliere i turisti che si recano in visita alla città. Materiali informativi di promozione già presenti al piano terra, l'obiettivo è quello di renderlo un vero e proprio ufficio informazioni, dove trovare notizie sulla storia di Campo San Piero sui vicini santuari antoniani, su Valle Gredo, il primo passo per realizzare un progetto più ambizioso, quello di rendere visitabile la torre a tutti i cittadini.